Ecco, ecco, mi stai mettendo? Andiamo, andiamo ragazzi! No, però così ci riscaldiamo. Eh già, dentro, prendiamo il posto. Alla prossima. La stanza è là. L'aganda! Sì, potete�are? You can write me here, LJ? L'aganda! Pako! L'aganda! Ah! C'est聖, iliavo! C'est聖! 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 Invergo, c'est聖! Sì, 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 sì. Sì, non c'è un passo, non c'è questo. Qui c'è un pino? Ma ragazzi, non c'è св tractor? Nelio, non c'è un altro? Perché il non c'è diamo? Ah, perché il gallono non c'è riservato? Perché è riservato per un'americato. Ok, capito! Grazie.